Ragazzoli miei, io sono Nevermind, bentornati su Elder Ring. Quest'oggi voglio mostrarvi come ottenere la katana gigante da cacciadraghi, un'arma veramente particolare che è strettamente collegata alla quest di Igor e a quella del culto draconico. Sapendo dove andare è relativamente semplice prenderla anche nelle prime ore di gioco. Vi basterà raggiungere la fonte e fronte del castello e seguire il percorso indicato in mappa. Nel percorso che stiamo facendo incontreremo sia l'NPC Igor, con cui scambiare un paio di dialoghi, sia più avanti un NPC ostile, uno spettro rosso, chiamato Uomo Drago Antico. Una volta parlato con Igor e ucciso questo spettro, possiamo proseguire fino a raggiungere il dungeon Fossa del Drago. È una caverna strutturata a livelli che ci porterà da un lato ad affrontare l'ennesimo drago che una volta ucciso ci dropperà il cuore di drago e la pietra da forgiatura del drago antico, mentre dall'altro lato ci porterà verso un dirupo. Ci dovremmo lanciare nell'oscurità fino a raggiungere la boss fight. Non ve la spoiler o ragazzuori, ma vi assicuro che non è nulla di così difficile da superare. Una volta sconfitto il nostro avversario, otterremo la katana gigante da caccia draghi. Come vi dicevo, è un'arma unica che scala forza-destrezza, rientra nella nuova categoria di armi presenti nel DLC e causa anche sanguinamento. Se potenziata fino al più 10, otterrà uno scaling di C in forza e in destrezza. La sua particolarità risiede nell'abilità unica, fendente squarcia draghi. Il nostro personaggio sfererà un colpo in salto, mentre se caricheremo l'abilità, quest'ultima si tramuterà in un fendente che arriverà a medio raggio. A quanto pare poi questa katana dispone anche di un effetto passivo, che ipoteticamente bisognerebbe fare ulteriori test, permette a quest'arma di infliggere più danni appunto verso i draghi. Se davvero così fosse, l'ottenimento di quest'arma è veramente importante per la quest draconica, di cui tratteremo in un altro video. Quindi se volete saperne di più al riguardo, vi invito ad iscrivervi a questo canale, perché uscirà qualcosa in questi giorni. Vi invito anche a lasciare like se questo contenuto vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto. Passate anche sui vari social che trovate qui in basso in descrizione. Io ragazzuoli vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima. Ciao ciao! Ciao ciao!